benvenuti nella cucina di gilda oggi ci prendiamo il caffè in compagnia gildare e che vuoi di caffè ho detto oggi mi voglio più al caffè con loro no ancora non ho preso è un'oretta che ho fatto una bella colazione oggi poi sta bella tazzina non è sbucata e poi volevo inaugurata per la tazzina che io adoro siccome me sarà rotta e ma sono ricomprata perché io ce l'ho personalizzata anche perché sto colore ci mancava e c'è c'è morossa verde carina questa buona gildare è che guarda che cremina ragazzi buono gildare adesso come quasi al bar allora cominciamo no sto scherzata vabbè allora amori belli venite qua va allora oggi faccio una pasta così al volo al volo va bene oggi fammi gigantoni cagliardi i gigantoni eccoli qua allora qui ce l'ho due belle sarcice di quelle casarecce vedete come sono belle sono non so grazie quelle belle casarecce allora adesso io metto scalogno ecco qua metto un po di scalogno ecco allora oggi la facciamo con sarciccia ecco vedete biselli e piselli vedete non è grassa per niente questa guardate come se sbriciola bene vedete queste sono quelle gagliardi vabbè allora adesso striduriamo sta bella e due belle sarcice adesso metto un po d'olio e ci metto perché questa sarciccia né che caccia tanto io non vuol dire extra metti solo extra sì ecco allora allora adesso andiamo andiamo metto mezzo bicchiere di vino è mezzo bicchierino piccolo ecco facciamo sfumare che profumo ragazzi mamma mia adesso aggiungo 250 grammi di piselli questi sossorgelati e adesso lascio cuocere coperto ecco qua adesso cala caliamo gigantoni e vai a dare allora la pasta è 350 grammi adesso la famo gocce e poi la condimo tutta quanta per benino va bene va bene girdarella allora il zucchettino ha cotto una ventina di minuti manca una mezz'oretta perché questo è tutto semplice semplice che se coce tutto ma è una sporverata di parmigiano e vai della mischiatina facciamo amalgamare tutto sul gas allora la nostra pasta con la salsiccia e i selli è pronta allora adesso ci mettiamo vai girare una sporveratina di parmigiano che spettacolo ragazzi che profumo una di pecorino mamma mia ma che vuoi dire a fai non dite voi quanto è buona ecco fatto che spettacolo fatela perché buonissima va bene semplice buona allora amori miei che meraviglia ragazzi ma ero un cantata tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di gilda tutti e piatto il piatto ricco me c'è fico